Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, buongiorno per tutto il giorno. Meditiamo stamattina il Vangelo di Gisela 4, versetti 43 a 54. In quel tempo Gesù partì dalla Samaria per la Galilea. Gesù stesso infatti aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa. Anch'essi infatti erano andati alla festa. Andò dunque di nuovo a Canna di Galilea dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui udito che Gesù era venuto dalla Giudea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio perché stava per morire. Gesù gli disse, «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Il funzionario del re gli disse, «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli rispose, «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli, «Tuo figlio vive». Vole sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero, «Ieri un'ora dopo mezzogiorno la febbre lo ha lasciato». Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto, «Tuo figlio vive». E credete lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno che Gesù fece quando gli chiedeva in Galilea. Parola del Signore. Carissimi, questo brano ci parla della guarigione di un figlio, di un funzionario e dove siamo a Cafarnao, un territorio pagano. Matteo riferisce anche questo episodio, Matteo Otto. Matteo nomina questo funzionario, lo chiama Centurione, un centurione romano. Qui lo diamo la fede di questo uomo. Non ha bisogno, non ha chiesto, non ha aspettato, diciamo, non so, mille cose, ma ha creduto nella parola di Gesù. È vero, nel Vangelo di Matteo, quello funzionario ha detto, «Signore, non sono degno che tu venga a casa mia, di una parola e il mio servo, mio figlio, sarà guarito». Ma qui invece lui insisteva di vedere Gesù a casa sua. Ma Gesù non è sceso solo con la parola «ha creduto». Ecco, carissimi, la fede è l'accettazione delle cose che speriamo, ma senza averle in mano, però abbiamo la speranza di averle. Questa è la fede. E siamo invitati noi a credere nella parola, perché la parola cresce, e cresce la fede nostra. La parola di Dio è il nutrimento, il concime della nostra fede. Non possiamo pretendere avere una vita spirituale senza mettere in mezzo la parola di Dio. Ecco, carissimi, Dio ti parla spesso, ma che ne facciamo di questa sua parola? Ascoltiamo e mettiamo in pratica la sua parola? O per una parte esce dall'altra? Ascolti questa parola. Gesù Cristo vedrai come la vita tua sarà trasformata. Vi auguro a ciascuno buona e santa giornata.